Con orgoglio voi oggi presentate questa edizione dello Sport non va in vacanza. Grandi numeri per una bella manifestazione che torna in presenza in tutti i suoi aspetti. Sessore dello Sport infatti sono molto soddisfatta. L'amministrazione comunale in sinergia con il CONI regalerà due mesi all'insegna del grande divertimento, socializzazione, svago e all'insegna dello sport, ma soprattutto alla scoperta di nuove discipline. E questo è il nostro obiettivo. Ormai sono 19 anni che c'è massima sinergia con il CONI e Abruzzo. E' detto bene, non solo per lo Sport non va in vacanza, ma per altre attività sportive e soprattutto per tanti eventi sportivi. C'è una grande collaborazione, grande sintonia e quindi siamo pronti per affrontare questa avventura insieme anche nei prossimi mesi. Torna a una delle attività più importanti del CONI e Abruzzo, lo Sport non va in vacanza a Pescara. Dopo due anni di emergenza sanitaria si torna alla normalità, si torna in presenza con tante attività in città. Assolutamente sì, il CONI è veramente contento di poter riprendere questa attività che coinvolge tutta la città. Abbiamo avuto 665 iscritti ad oggi, più ci sono dei ragazzi, penso una quindicina extra che pure parteciperanno. Le sedi saranno chiaramente lo stadio, il Volta dove si farà l'attività piscina e poi dentro il Volta ci sono tutte le attività anche atletica. E poi abbiamo altre due sedi che avevamo opzionato, tra cui quella della spiaggia, ma la spiaggia purtroppo pochi avevano opzionato la spiaggia come ragazzi. E poi in effetti ci richiedeva un controllo troppo importante, effettivo. Comunque siamo veramente contenti, finalmente dal 13 di giugno inizierà questo sport non va in vacanza e tutti noi saremo presenti a affiancare i nostri istruttori, i nostri coordinatori che abbiamo selezionato con cura presso il CONI in questi giorni prima dell'inizio dell'attività.